Perché vogliamo esserci, sì perché vogliamo esserci, noi ci siamo è quel cielo dipinto di gioia e di amore. Sì perché vogliamo esserci è il nuovo inno del Calcit Valdarno, un canto dedicato ai soldatini dei mercati che puntualmente scendono in piazza a favore della Onlus ogni anno e in ogni luogo. La presentazione ufficiale del motivo nel weekend a Terra Nuova. Quest'anno siamo riusciti a fare la canzone del Calcit del mercatino dei ragazzi, finalmente siamo riusciti a mettere insieme un po' tutto e a fare il disco e oggi verrà presentato ufficialmente e che verrà cantato poi in tutti i mercatini che verranno fatti qui nel Valdarno. Un progetto che già da un anno lo stavamo pensando e quindi un progetto fatto diciamo di parole che sono poi i sentimenti della nostra associazione. Quindi una canzone fatta di amore, fatta di solidarietà, fatta di sensi civici importanti e questa diciamo è la cosa più importante. Credo che sia veramente una canzone che la possiamo ritenere l'Anzone del Calcit del Valdarno, soprattutto spesa durante anche il mercatino. Ecco poi com'è nata la canzone. Abbiamo modellato il motivo che oggi si può chiamare in qualche modo canzone, fatta da un autore iniziale che ero io, ma io non ho niente a che fare, non ho né capacità musicale o che so io. Però penso che è venuto un motivo che apprezzerete, sarà carino, bellino e spero che faccia divertire i ragazzi in particolare che dovranno avere questo faro di riferimento ogni volta che faranno le loro manifestazioni. Sarà una gioia penso per loro. Occasione peraltro anche per fare il punto su radioterapia ed oncologia in Valdarno. Il dottor Tucci, responsabile ASL, ai nostri microfoni. Il Valdarno ha il terzo ospedale più importante della USL, un ospedale importante che va valorizzato e rilanciato e su questo siamo fortemente impegnati, sia sul versante della radioterapia che sarà nei prossimi mesi aggiornata e resa centro di riferimento di tutta la USL per certe tecniche speciali, sia per l'oncologia america che sarà rinforzata dopo qualche piccolo problema di personale che abbiamo avuto nei mesi scorsi. Sì perché vogliamo esserci.